Salve d'Angeli Viaticus e ci troviamo a Muscat, capitale dell'Oman, a visitare il museo Bait al-Zubair nei pressi delle due fortezze portoghesi Mirani e Gilal. All'ingresso si trovano le foto di tratti della famiglia reale, tra cui la foto del sultano Kabus che ha portato il prese alla modernità, morì 80 anni nel 2020 dopo aver regnato per 50 anni circa e c'è anche il ritratto del suo successore, il sultano attuale. Il museo fa parte di un tour organizzato ma è possibile visitarlo anche in autonomia. Si trova nella città vecchia di Muscat che insieme a Mutra forma il cuore della capitale Omanita. Il museo è molto interessante con tanti oggetti legati alla storia di questo paese che dal 1970 ha conosciuto una grandissima espansione. Quindi consigliamo di venire a visitare questo museo e a fare un giro per la città vecchia di Muscat tra l'altro qui vicino, tornando verso Mutra c'è il succo più antico e più grande del paese.